L'obiettivo è uno, evitare il più possibile la chemioterapia alle donne con tumore al seno. Grazie ad un test genetico, ora questo sogno si è trasformato in realtà e molte donne potranno risparmiarsi gli effetti collaterali legati alla chemio. A tracciare la strada due studi presentati all'ASCO, l'American Society of Clinical Oncology, il più grande congresso mondiale sul cancro, in corso a Chicago. Il primo è uno studio americano, chiamato Taylor X, finanziato con fondi federali e dimostra che alcune donne con un tumore in fase iniziale e con particolari caratteristiche genetiche non hanno benefici in termini di riduzione del rischio di ricadute dalla chemioterapia e quindi possono evitarla. Devono però rispondere a certe caratteristiche. La prima è che il loro tumore deve avere recettori per gli ormoni, la seconda è che non deve avere i cosiddetti recettori R2, la terza è che non devono essere presenti linfonodi ascellari positivi, la quarta, la più importante, riguarda le caratteristiche genetiche del tumore che nello studio sono state valutate con un test genomico che analizza 21 geni delle cellule tumorali coinvolte nelle ricadute della malattia. È proprio in base alla risposta a questo test che si decide o meno di ricorrere alla chemio. Una rivoluzione se si pensa che il trattamento con la chemioterapia quasi sempre porta con sé gravi effetti collaterali e che ogni anno in Italia si ammalano di tumore al seno 48.000 donne. L'80% hanno più di 50 anni ma l'incidenza nel 30-40 anni è in crescita. Le possibilità di guarire se la diagnosi è precoce sfiorano addirittura il 90%, motivo per il quale evitare il calvario della chemio sembra essere un progresso fino ad oggi insperato.